Lunedì 12 marzo 2018 Ben trovati, buona giornata, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani oggi in edicola. Apriamo come sempre, come di consueto, con le prime pagine dei giornali abruzzesi. Siamo all'edizione di Pescara del Centro, si parla ovviamente dell'omicidio di Alessandro Neri, il 28enne di Villaraspa di Spoltore. E sono sparite le chiavi dell'auto del giovane delitto di Pescara, parla il fratello che dice troverò l'assassino, la madre ascoltata dai carabinieri. E poi a centropagina si parla di sport, perché dopo la pesante sconfitta di sabato scorso in casa contro il Parma, il Pescara domani sera alle 18. Torna nuovamente in campo, ancora dinanzi al pubblico amico, per affrontare il Carpi nella gara che fu rinviata a fine febbraio per neve. Parla il presidente Sebastiani che dice contro il Carpi, ci giochiamo il futuro. E poi le cronache, sempre a Pescara, lavori in riviera ma mancano soldi per le altre strade. Il vice sindaco Blasioli annuncia la consegna dell'intervento di riqualificazione del lungomare, ma lancia un appello alla regione. Occorrono 2 milioni di euro per la manutenzione stradale e in provincia le ferie solidali tra i colleghi in provincia di Pescara. Montesilvano, vigili del fuoco. Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, chiede il presidio fisso. Delle notizie di sport, il calcio a 5 femminile, Montesilvano si gode la Coppa, il trionfo del tecnico Marzuoli. E poi il calcio di Serie A perché l'Inter mette il freno a Napoli, la Juventus torna in testa alla classifica in alto. Altre due notizie che poi ritroveremo all'interno del giornale. Partite IVA in Abruzzo, l'Aquila batte tutti e balza al quarto posto in Italia. Poi nessun rinvio in Abruzzo, bimbi non in regola con le vaccinazioni da oggi, niente scuola. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di l'Aquila Vezzano sul Mona. Muore durante la gara del figlio, l'Aquila Gasbarro di Confraagricoltura. Era sulle piste da sci di campo felice. E poi la domenica dello sport, Dos Santos gol non basta. La Vezzano subisce il pareggio al novantesimo in casa del Castelfidardo nella gara di recupero, giocata in terra marchigiana. E poi dramma paganica, muratore aggredito dai cani prima di affogare. L'uomo ritrovato nei pressi di un torrente. Questo giovane muratore albanese sarebbe affogato nel canale dopo essere stato aggredito, ed essere stato aggredito anche da alcuni cani che erano nella zona. A Vezzano SOS Sicurezza, i residenti più controlli alla stazione. E poi a Sul Mona, palazzo Meliorati, dopo il sisma. Ecco i restauri. Andiamo a vedere la prima pagina del centro di Teramo. Muore in casa, cadendo dalle scale. Montorio Alvomano, il corpo scoperto dopo 12 ore. Il 78enne abitava da solo. E Teramo, il calcio di Serie C, finisce senza reti. Lo scontro per la salvezza con il Sant'Arcangelo. Ieri sera al Gaetano Bonolis. Un buon primo tempo per i biancorossi. Poi una ripresa sotto tono. Il Sant'Arcangelo riesce a strappare il pareggio in casa della formazione di Ottavio Palladini. Poi vedremo le immagini, ascolteremo anche la voce dei protagonisti. Siamo alla cronaca. La pittrice uccisa. I santoleri comunicavano con i pizzini. Leggiamo da questo titolo del centro. E poi Asle di Teramo, mutilato dopo una diagnosi sbagliata. Fa causa. Coltellate a scuola. I carabinieri un bullo. Lo studente ferito. Andiamo a vedere l'ultima pagina del centro, che è quella dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Muore schiacciato dalla quercia Rocca Scalegna. Tragedia durante il taglio della pianta. La vittima aveva 49 anni. E poi Guardia Grele, vedete la foto a centro pagina. Ricorda Bafile, l'eroe della marina. Cerimonia al Sacrario di Bocca di Valle. E poi Chieti sta per tornare l'autovelox a Brecciarola. Ortona, costone franato. Sotto il palazzo c'è il sì ai lavori. E Vasto, pronto soccorso. 30 mila, 35 mila per meglio dire pazienti. In un anno l'accesso, i numeri dell'accesso al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Pietrelcina di Vasto. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Alex conosceva l'assassino. Questo è il titolo che riguarda le indagini sulla morte di Alessandro Neri. Spunta la pista familiare. C'erano litigi per il patrimonio. Il killer era molto vicino a lui. Il giallo degli occhiali da cui non si separava mai. Trovati all'interno dell'auto in centro. E poi l'Aquila, muratore nel canale. Nessuna ipotesi sulla scomparsa di questo 36enne albanese. E poi a centro pagina, Campo Felice, stroncato da infarto sulla pista da sci. Il malore mentre aspettava la gara del figlio. E poi un'altra tragedia accaduta in provincia di Chieti, a Rocca Scalegna. Taglia la legna, muore travolto da una quercia. E poi l'articolo di spalla. Si parla di elezioni e Antonio Razzi attacca Pagano. Prende fischi per applausi, dice il senatore uscente di Forza Italia. In alto i richiami di sport. Pescara adesso non puoi più sbagliare. Devi pensare alla salvezza. Dopo, lo dicevamo qualche istante fa, la gara in Fausta con il Parma. Si torna già in campo domani alle 18 allo Stadio Adriatico per la gara con il Carpi. Pescara che ora non può più sbagliare. E poi il calcio a 5 femminile. Le ragazze di Montesilvano conquistano la Coppa Italia. Poi la Serie D. Ieri due recuperi. Avezzano un pari da playoff in casa del Castelfidardo. Nero Stellati passa per 2-0 sul campo del San Marino. E poi si parla dell'Aquila, della crisi societaria. Il silenzio dell'amministratore unico Miani. Lasciamo per il momento le prime pagine dei quotidiani, dunque i quotidiani della nostra regione. Il centro ed il messaggero. Andiamo a vedere l'edicola nazionale, i titoli principali dei giornali che sono oggi in edicola. Iniziamo come di consueto dal Corriere della Sera. Tocca ad altri. Opposizione. Oggi si parla dei democratici. Oggi ci sarà un'importante riunione. Intanto c'è l'intervista proprio del Corriere della Sera a Matteo Renzi. Lascio. Deciderà l'Assemblea mai con gli estremisti. Ho visto la piaggeria e la viltà. Arriverà la rivincita. Resto nel partito democratico. E poi vedete la nuova Cina passa alla riforma potere illimitato per il presidente cinese Xi Jinping che vedete al voto durante la tredicesima assemblea nazionale del popolo incoronato a vita l'attuale presidente cinese. Andiamo a vedere Repubblica. Via Renzi il PD cambia faccia. Questo è il titolo del quotidiano Repubblica. Dopo quasi 1550 giorni lascia al reggente Martina, capigruppo e presidenze, i nodi da sciogliere. Salvini una camera va alla Lega, dice il leader proprio della Lega. Gelo di Forza Italia. Prove di dialogo con il Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale. E poi in basso anche Repubblica dedica un titolo all'assemblea del popolo a Pechino in Cina. Xi è il nuovo imperatore. La Cina sarà sua a vita. E poi Dazi e invidia. Trump sembra subalterno a Pechino. Proseguiamo con la stampa di Torino. Berlusconi al PD dovete sostenere il nuovo governo, dice il leader di Forza Italia. Mai un partito unico con la Lega, ha specificato Berlusconi. E poi nella Cecenia ostaggio di Putin, ridotta stato vassallo. Il cremelino testa il supermissile ad una settimana dal voto. Poi un richiamo di sport sulla stampa di Torino perché crisi Napoli si ferma a San Siro. Juve in vetta 0-0 tra Inter e Napoli. Ieri sera nel posticipo giocato a Milano. E poi un richiamo, un titolo che riguarda la politica. Populisti, Le Pen e Loggia Salvini. Lui ha vinto. E poi in basso, vedete, ai grillini piace la ricetta di Bannon. Proseguiamo con il Sole 24 ore. Bonus fiscali e lavoro sottotiro. Il taglio delle tasse promesso dei partiti passa dal riordino degli sconti. E poi il fatto quotidiano. Con i 5 Stelle si può governare nell'Unione Europea. Aiutano la democrazia. L'eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito Democratico a trattare con il Movimento 5 Stelle. L'eurodeputata è Barbara Spinelli. Proseguiamo con il messaggero. La prima pagina nazionale. No del PD al Movimento 5 Stelle. Arriva del Rio. Oggi la resa dei conti. Come dicevamo in direzione Demi. Il ministro delle infrastrutture verso la segreteria. Salvini, le presidenze delle Camere. A noi, ai grillini. C'è l'accordo, ma il centrodestra è diviso. E poi vedete Cina abolito il limite dei due mandati. C'è il presidente per sempre. Diventa più potente di Mao. E poi l'università resta senza fondi. Cancellate le borse di studio. Penalizzati 7500 studenti. Mancano 130 milioni di finanziamenti. In alto il ricordo di Davide Astori ieri a Firenze. Ricordo che ha unito il calcio. La Fiorentina vince per lui. Vedete questa foto e la coreografia davvero da brividi. Con la scritta Davide e il numero 13 che è la maglia del giocatore della Fiorentina. Che tra l'altro è stata ritirata proprio dalla formazione viola. Vedete che coreografia in curva Fiesole ieri durante la partita fiorentina. Benevento. E a proposito del campionato di Serie A. Lazio salva con una magia di immobile. Un colpo di tacco allo scadere. 2-2 a Cagliari per i bianco celesti. E polemica per la VAR. Andiamo a vedere anche il Tempo. Altro quotidiano romano. Papale papale. Si parla dei cinque anni di pontificato di Papa Bergoglio. Luci e ombre di Francesco tra aperture tabuinfranti e cattolici disorientati. Scrive il Tempo. Il quotidiano libero. Di Maio si fa prete. I vescovi rilanciano la dottrina sociale della DC. Il leader grillino si inginocchia in un'amen. Scrive libero. E poi con Martina segretario. Il PD va in Serie B. La disfatta dei democratici. Non finisce più. Questo è l'altro titolo del quotidiano libero. Siamo invece alla giornale di Genova. Il secolo XIX. Berlusconi chiama. Il PD parla il leader di Forza Italia. Salvini ribatte le camere a noi e al Movimento 5 Stelle. E poi un doppio richiamo di sport che riguarda sul secolo XIX le due squadre genovesi ma che riguardano anche altre formazioni. Samp affondata già nel primo tempo. Perde per 4 a 1 la squadra di Marco Giampaolo che vedete nella foto all'uscita di Crotone. e poi perde anche il Genova beffato all'ultimo secondo. Il Milan sconfigge Rosso-Blu per 1 a 0 e fa un passo in avanti importante in chiave Champions League. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno che titola nel PD il giorno delle scelte. Oggi la direzione Orfini esecutivo con il Movimento 5 Stelle. Sarebbe la nostra fine. E poi vedete il titolo di spalla. Papa Francesco da Sampio attesi in 30.000 a San Giovanni Rotonto. Tutto pronto per sabato prossimo quando ci sarà la visita del Pontefice. Questo era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso in esame. Possiamo tornare sulle pagine del centro per ripartire dalle cronache di casa nostra, dalla politica e dal futuro dei governatori perché così le regioni chiedono più autonomia. Intesa tra Groverno, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, a lavoro Puglia e Campania. L'Abruzzo ci penserà forse dopo il voto. E poi si parla di nuove partite IVA. L'Aquila ha un segno più. L'indagine dell'Ascot infatti rivela che il capoluogo abruzzese è risultato quarto in Italia per la crescita. L'Abruzzo non è ancora pronto. Niente scuola per i bimbi non vaccinati. Regione e ufficio scolastico confermano i divieti. Oggi rischio confusione in nidi e materne. Parla l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci che dice non prevedo caos. E poi vedete di spalla la scheda medica. Le dosi obbligatorie sono 10. In altre regioni la data slitta. E tra l'altro, oltre all'esclusione, vedete il titolo in basso, è prevista anche la sanzione. Che cosa accade a chi non è in regola? Ecco anche il testo della circolare abruzzese sui divieti. Siamo alle pagine dalle province. Partiamo da Pescara e dal delitto neri. Sono sparite le chiavi dell'auto di Alessandro. I killer l'hanno spostata e ripulita. Decisiva infatti le immagini delle telecamere di Via Mazzini, dove è stata ritrovata la Fiat 500 rossa del ragazzo e la procura di Pescara si affida ad un consulente per l'analisi delle celle agganciate dal telefonino del giovane. Vedete nelle immagini i carabinieri che sono a lavoro proprio nella zona di Fosso Vallelunga, dove giovedì era stato ritrovato il corpo senza vita di Alessandro Neri. E il fratello, parla il fratello di Alessandro, eri troppo furbo, non è stata una sola persona. In attesa di poter rientrare da Miami, Massimiliano Neri affida a Facebook la sua rabbia. Il papà esclude vendette venezuelane, scusate, riconducibili all'impero del suocero. E intanto in alto c'è un altro articolo che parla dei progetti interrotti di una famiglia felice. Laura Lamaletto, la madre di Alessandro, voleva vendere casa e andare via. Vedete nella foto proprio l'immagine esterna dell'abitazione della famiglia con il cartello vendesi. Proseguiamo, siamo sempre sulle pagine di Pescara del centro. Cambiamo argomento, si parla di manutenzione delle strade danneggiate dal maltempo in città. Il comune di Pescara chiede 2 milioni, chiede questi fondi alla regione. L'appello è del vice sindaco Antonio Blasoli, proprio al presidente della regione. Non abbiamo risorse a sufficienza. Oggi la consegna dei lavori per riqualificare il lungomare sud, posti auto garantiti per l'estate. Proprio ai nostri microfoni, qualche giorno fa, il vice sindaco Blasoli aveva parlato di questa richiesta di 2 milioni di euro alla regione Abruzzo. E poi di spalla l'ucarratura d'oro al Saral Food di Pescara in via Tirino, la rassegna enogastronomica più importante della nostra regione. Spostiamoci nella parte bassa della pagina, provincia. Arrivano le ferie solidali, i dipendenti dell'ente potranno cedere ora ai colleghi che devono assistere i figli. Siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara, ci spostiamo a Montesilvano, un presidio fisso dei vigili. Il sindaco Francesco Maragno si schiera con il sindacato dei pompieri e condivide l'appello al prefetto, una sede sempre aperta e prioritaria. Sarebbe un atto di responsabilità. E sempre a Montesilvano il club solidale si riunisce, accoglie 50 nuovi artigiani. E poi polemica invece a Francavilla al mare, sul progetto per la Torre Tim, Mantini e Damario contestano l'idea del sindaco di abbellire la struttura. Dicono sarebbe una follia. Siamo alla pagina di Chieti, in questo caso in provincia, nella zona frentana Rocca Scalegna, dove ieri c'è stata una tragedia, una tragedia muore schiacciato dall'albero abbattuto. La vittima è un uomo di 49 anni. L'incidente in un bosco di Colle Buono, l'operaio di 49 anni, appunto, travolto dalla quercia durante le operazioni del taglio della pianta. E a Chieti, sull'autovelox, arrivano i lampeggianti, i controlli a brecciarola. Entro la fine della settimana sarà riacceso l'impianto che è stato spento sette mesi fa. E a Chieti oggi finirà i funerali del maresciallo Miccoli, aveva 47 anni, carabinieri, in lutto. Ortona, frana di Santa Lucia, sia al progetto, ha provato l'intervento per fermare lo smottamento sotto un palazzo. Siamo alla pagina dell'Aquila. Nuova tragedia. A Campo Felice vedete il titolo di apertura. Concezio Gasbarro, presidente di Confragricoltura, fulminato da un infarto a 57 anni, si trovava ai bordi della pista da sci. Il suo ultimo appello alla regione serve una politica agricola seria su basi europee. E a Paganica, svolta nelle indagini per la scomparsa di Edmond Preca, il giovane affogato dopo l'aggressione dei cani, ha cercato di difendersi, è caduto in acqua e ha battuto la testa. La disperazione della moglie per questa tragica scomparsa di questo 36enne. Siamo alla pagina del centro di Teramo. Siamo alla vicenda della morte della pittrice Renata Rapposelli. Santoleri, Bisbigli e Pizzini per evitare di essere intercettati. Leggiamo da questo titolo. Padre e figlio ripresi da una telecamera nella clinica mentre si scambiano foglietti, poi distrutti. Il giudice, atteggiamento senza senso logico tra soggetti che non hanno segreti da nascondere. E poi di Spalla si parla di politica. Giulianova incontro tra il PD e il sindaco Mastromauro per scongiurare la crisi politica. E poi la cronaca a Montorio cade dalle scale di casa e muore il pensionato. Trovarono dopo 12 ore l'allarme dei passanti che hanno visto il sangue uscire dal portone. Quest'uomo che viveva da solo in casa a Montorio. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dobbiamo andare a vedere però le pagine interne dell'inserto Abruzzo, del quotidiano Il Messaggero. Ripartiamo anche in questo caso da Pescara e sempre dall'omicidio di Alessandro Neri. Alessandro ucciso, spunta la pista delle liti patrimoniali. Vedete questo titolo. La madre riascoltata ieri per tre ore dai carabinieri. I militari ora stanno indagando sul movente familiare. E poi strade groviera, comune senza soldi. Blasioli, vice sindaco di Pescara, chiede due milioni alla regione. Intanto parte oggi in diverse zone la sistemazione degli asfalti dopo gli scavi per la banda larga. E cambiato argomento ci spostiamo a Spoltore che si trasforma in set per il film. Con Margiotta e poi la fiera del Nieno Gastronomia Pescara. Taglio del nastro al Saral Food 2018. Sfida ai fornelli per la importante manifestazione, il cooking show. Luca Rattur d'oro. Siamo alla pagina dell'Aquila. Buche per adesso le toppe di Vampa. Lo scontro politico. Siamo all'Aquila appunto. Gli operai del comune sono intervenuti sulle strade cittadine con le maggiori criticità per la sistemazione definitiva delle arterie. Bisognerà però attendere l'arrivo del bel tempo. Di spalla la politica. PD, la segreteria aquilana si ribella all'azzeramento dei vertici regionali. E poi la denuncia del consigliere regionale Pierpaolo Petrucci. Il provveditorato blocca la ricostruzione, dice il consigliere regionale. E poi il giallo di Edmond Preca, il 36enne operaio albanese trovato senza vita paganica. Forse azzannato da un cane. Questa è la ricostruzione più probabile degli ultimi minuti di vita del 36enne. Andiamo avanti. Siamo alla pagina di Avezzano e Sulmona. Siamo ad Avezzano. De Angelis dica sì a una nuova maggioranza. Il responsabile cittadino del PD Giovanni Ceglie lancia un appello di responsabilità in nome della città. La coalizione del centro-sinistra che ha vinto al primo turno, pronta a collaborare su punti condivisi del programma. E poi ancora Avezzano, un nigeriano arrestato per detenzione spaccio. E poi la tragedia di Campo Felice, un altro morto per infarto sulle piste da sci. L'uomo scomparso è Concezio Gasbarro di Villalago, 57 anni. Proseguiamo. Andiamo in basso. Ci spostiamo a Celano. Clinica di Celano. C'è il ricorso al TAR contro il trasferimento del personale all'Aquila. La proprietà si reca dai giudici amministrativi. E poi in Valle Peligna, sul Mona, Palasport, scatta l'inchiesta sui mancati pagamenti e in via Turati, strage di specchietti retrovisori. Siamo alla pagina di Chieti e Chieti provincia. Dal messaggero taglia la legna nel bosco. Muore travolto da una quercia. Daniele Zinni, 49 anni, di Rocca Scalegna. Stava sradicando la pianta con il trattore. A causa della corda troppo corta, l'uomo è stato preso in pieno. Trauma cranico fatale per il 49enne. E poi azzurra, dipendenti citano l'asle per gli ultimi stipendi. Ciascuno vanta fino a 16 mila euro. Il contenzioso rischia ora di travolgere i conti dell'azienda. A vasto, strade provinciali, l'appalto di 13 milioni dei piccoli comuni. E poi l'incendio doloso, gli bruciano il trattore e la Vespa. Scatta l'inchiesta ad Ortona. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Piste ciclabili e bike sharing. Che caos, sono un fallimento. La denuncia degli amici della bici. Rifare da capo la mobilità sostenibile. Sostengono due ruote abbandonate a se stesse. I pochi percorsi non sono collegati. E cento giorni alla maturità. Festa blindata a San Gabriele della Dolorata. Presidiato l'unico parcheggio per evitare che gli studenti portino alcol e droga. E poi in basso Giulianova, vedete, Coltella, 17enne a scuola, ricorso contro la sospensione. E poi il dramma di Montori Alvomano, sangue dal portone. I vicini danno l'allarme, 75enne, trovato morto in casa. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport. Possiamo allora almeno vedere la prima pagina dello sport del messaggero per parlare del Pescara. Pescara che pensa alla salvezza per il nuovo allenatore Massimo Epifani. Domani subito nuovo banco di prova. Ve lo dicevo prima. All'Adriatico alle 18 e di scena il Carpi. Modifica tattica, torna la difesa a tre. Potrebbe essere questa una soluzione perché dopo la sconfitta con il Parma il Pescara non può più sbagliare. E Masina racconta a Calabro un martello simile a Conte. Masini ex Teramo gioca nel Carpi guidato proprio da Calabro. E poi in basso. Una batosta più utile di 10 allenamenti servono modifiche che abbiano efficacia in tempi rapidissimi. Un gruppo, quello del Pescara, scrive il messaggero sopravvalutato. Vediamo anche il centro, come parla del Presidente Sebastiani, che abbiamo anche ascoltato ieri sera in diretta durante i collegamenti dallo stadio Gaetano Bonolis per la partita Teramo-Sant'Arcangelo. C'era anche il massimo dirigente del Pescara a seguire la gara. E Sebastiani dice che non c'è più l'alibi Zeman. Il Presidente del Pescara cerca di responsabilizzare i giocatori. Domani, come detto, recupero con il Carpi. Vediamo proprio la pagina, eccola qui, che riguarda la gara Pescara-Carpi. Sebastiani domani partita decisiva per il nostro futuro. Il Presidente, dopo il capo col Parma, Epifani non poteva fare molto in pochi giorni, quello che ha anche detto ieri sera ai nostri microfoni, è finita l'era del vince o perde Zeman. Adesso i calciatori devono svegliarsi. E intanto ad Ascoli il clima è pesante dopo la sconfitta di Venezia. Due giocatori bianconeri aggrediti da teppisti. Tornando al Pescara parla l'attaccante Bunino che è riuscito a segnare nella sfortunata sfida con il Parma il suo primo gol in maglia bianca azzurra e ad interrompere un digiuno che durava da quasi 700 minuti. Dice Bunino, bisogna giocare con rabbia. Nuovo modulo Epifani pensa al 3-5-2. Questa potrebbe essere una soluzione. Intanto ieri si sono giocati due posticipi per quanto riguarda il campionato di Serie B con la vittoria della Salernitana alla Rechi per 2-0 con l'Avellino. La Salernitana grazie a questa vittoria ha scavalcato in classifica il Delfino Avellino che sarà il prossimo avversario domenica prossima dopo la gara ovviamente di domani sera Pescara Carpi dei Biancazzurri. Domenica Pescara giocherà allo stadio Partenio Lombardi di Avellino alle 17.30. Tra l'altro Avellino che ieri ha chiuso la gara in Nuove Uomini per le espulsioni di Molina e di Asensio. Nell'altra gara l'Empoli capolista ha battuto la Virtus Entella con il risultato di 2-1. Possiamo dunque fermarci per qualche attimo poi tra poco torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Rientriamo in studio, seconda parte di Mattino 6, siamo alla pagina che riguarda la Serie C e dunque il Teramo, Teramo in casa, vedete il titolo del centro, la svolta non arriva. Un'altra prestazione deludente al Bonolis e pari senza reti con la diretta concorrente Sant'Arcangelo. Dopo un buon avvio i biancorossi dimostrano grosse difficoltà a fare gioco anche se sono più solidi. Bacio Terracino crea diversi pericoli nel primo tempo e San Domenico, sempre nella prima parte di gara, colpisce la traversa. Ma si tratta di lampi isolati. E dunque noi andiamo a vedere le immagini e il commento su questo pareggio senza reti del Gaetano Bonolis nelle parole di Jacopo Forcella. Teramo con il 3-4-3, confermati gli undici di Padova, con Ilari e Graziano a centrocampo, Gondò, Bacio Terracino e San Domenico davanti, dietro confermato Bilillo in porta a Vabbifuco, 4-4-1-1 invece per il Sant'Arcangelo di Calasin, modulo più prudente. Minuto di raccoglimento ovviamente del Bonolis in ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso esattamente una settimana fa. Primo tempo che il Teramo gioca molto meglio rispetto a quanto poi non farà nella ripresa, reclamando anche su un contatto in area di rigore che però le immagini non forniscono. C'è questa occasione per il Sant'Arcangelo con la conclusione di Dallabona, che però non c'entra lo specchio della porta. Sempre Sant'Arcangelo con Semedo e Bifuco, che in due tempi riesce a disinnescare la battuta violenta del giocatore del Sant'Arcangelo. nonostante quello che si verrà, il Teramo gioca un buon primo tempo con alcuni spunti, anche se poi c'è questo gol annullato per fallo in attacco del numero 21 Sirignano nei confronti di Milillo, che poi l'assist di Sirignano troverà il gol del compagno di squadra. Il Teramo si fa vedere con Bacio Terracino, pallone sul destro in area di rigore parato da Bastianoni. Questa è la punizione di San Domenico al 38esimo parabola arcuata, che scende e forse sorprende Bastianoni, palla sulla traversa e nulla di fatto. Occasione al 42esimo colossale per Graziano, altro calcio di punizione di San Domenico deviato dalla barriera, colpo di testa fuori misura proprio di Graziano da pochi passi. Qui siamo già nella ripresa con Semedo che prova la conclusione, nulla da temere per Bifulco. Al settantesimo c'è questo calcio d'angolo per il Teramo con Bastianoni che allontana e poi Bacio Terracino che sparacchia altissimo sopra la traversa proprio del portiere ex Varese. Nel frattempo sono entrati anche Varas e Tulli, questa è l'occasione più ghiotta per il Teramo, se così possiamo chiamarla, la 74esimo punizione di Ventola che sfiora l'incrocio dei pali e poi al 96esimo si chiude di fatto la partita con un secondo tempo che sicuramente non passerà ai posteri come uno dei più belli visti al Bonolis. Teramo Sant'Arcangelo finisce 0 a 0. Queste dunque le immagini della gara e il commento di Jacopo Forcella su questo pareggio senza reti tra Teramo e Sant'Arcangelo. Un buon primo tempo per i bianco-rossi, una ripresa sicuramente sotto tono. Vediamo anche i risultati delle gare giocate ieri per quanto concerne il girone. B riposava il Fano, Albino Leffe Ravenna 0 a 1, dunque colpaccio dei Romagnoli in casa dei Lombardi che tra l'altro saranno i prossimi avversari del Teramo, sempre al Bonolis. Poi pari per 2 a 2 tra Fermana e Reggiana. Mestre Pordenone 4 a 3, Sud Tirol Renate 0 a 0, 0 a 0 anche al Nereo Rocco tra Triestina e Vicenza. Sconfitta casalinga del Gubbio con la Feralpi Salò che vince per 1 a 0 grazie ad una rete di marchi. Ma noi restiamo a parlare del Teramo con i commenti del 91esimo. Paladini critica le punte, si muovono male, tecnico amareggiato. Nel primo tempo dice abbiamo avuto le occasioni. Masticamaro anche Caidi. Mi dispiace non aver vinto. Noi ora andiamo ad ascoltare dunque le interviste dei due allenatori di Teramo e Sant'Arcangelo, Ottavio Palladini e Alberto Cavasini, proprio negli spogliatoi dello stadio Bonolis. Ma non è che nel secondo tempo non ci abbiamo provato. Anzi, forse diciamo che siamo stati più prevedibili. Abbiamo provato a cambiare anche qualcosina mettendo Tulli, mettendo Fradangelo, inserendo anche Varas come esterno di destra per spingere un pochettino di più. Loro si sono chiusi ancora di più e è diventata dura. Anche se due o tre situazioni importanti ce le abbiamo avute perché la palla è viaggiata due o tre volte dentro l'area dei rigori e lì c'è mancato un po' di cattiveria. Le altre partite in casa fatte abbiamo giocato molto meglio sotto il profilo del possesso della palla. Io ti parlo di Pordenone, ti parlo di Bassano, però abbiamo concesso tantissimo. Quindi magari in questo momento abbiamo trovato l'assetto giusto dietro e in mezzo al campo, ma dietro nel senso di squadra, che siamo belli compatti, dove dobbiamo migliorare nella fase offensiva, che dobbiamo essere più propositivi e muoverci un pochettino di più e cercare di diventare meno prevedibili. Prossimo turno ancora in casa, Albonolis qui con l'Albinole F. Albinole F è squadra che probabilmente non verrà certo a fare la partita. Incontrerete probabilmente un'altra squadra che cercherà di chiudersi, di portare via, di strappare il punto. Sì, sarà un'altra partitaccia perché anche loro perdendo oggi in casa magari si ritrovano inviscati nella zona magari bassa e quindi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita, non concedere niente agli avversari e migliorare quello che abbiamo detto prima, cioè essere più propositivi e cercare di essere più pericolosi possibile. L'ultimo ottavo, oggi abbiamo visto Gondò non al meglio anche nelle altre partite, non aveva convinto fino in fondo cosa non va in questo ragazzo che comunque ha grosse potenzialità. Ma sicuramente deve crescere ancora fisicamente perché viene da un anno e mezzo un po' particolare. In settimana, negli ultimi due giorni ha accusato un problemino e magari questo l'ha limitato un pochettino. Noi da lui ci aspettiamo tanto e cercheremo di portarlo al massimo della condizione perché abbiamo bisogno di tutti in questo momento. Le due squadre hanno cercato di vincere la partita, di fare gol nel primo tempo. C'erano delle energie, c'era anche della lucidità, però il primo tempo è stato comunque combattuto tantissimo. Ogni palla era sempre oggetto di desiderio di tutti, che tutti quanti ci correvano dietro e questo è stato pagato poi nel secondo tempo sia per noi sia per loro, mancando un po' di lucidità e anche di forze. La partita non ha più trovato interpreti che potessero anche andare alla conclusione. Soddisfatto del punto perché questo ci siamo meritati. Davanti avevamo comunque una squadra che ha dimostrato il nostro valore e penso che sia giusto anche il pareggio. Teramo ha dato tanto come noi, quindi complimenti a noi e complimenti all'avversario. Abbiamo cercato noi, ma anche Teramo ha cercato comunque di far sua la partita, però da entrambe le parti c'era qualche atteggiamento tattico per cui si portavano gli attacchi senza rischiare molto. Condivido anche questo con lei. Vediamo anche il messaggero come commenta questo pareggio. Teramo il Bonolis è un tabù, finisce senza gol con il Sant'Arcangelo. Gara noiosa e povera di emozioni. Palladini nella ripresa dovevamo fare qualcosa di più. Comunque una buona difesa, lo abbiamo ascoltato anche poco fa ai nostri microfoni. Serie D, l'Aquila, il dilemma di Miani nel silenzio. Torniamo al centro per parlare di Serie D e del colpaccio nel recupero di ieri del Nerostellati Pratola che è passato per 2-0 con il più classico dei risultati in casa del San Marino. Contentezza sicuramente in casa Peligna per questa vittoria, ma allo stesso tempo rammarico anche per il tecnico di Corcia per le gare perse. Allora andiamo a vedere quello che è successo ieri a Serravalle, lo stadio Serravalle di San Marino con questa vittoria dei Nerostellati. Il San Marino rende omaggio alla memoria di Davide Astori. Gigantografia e la scritta Ciao Davide fanno da sfondo al sentitissimo minuto di silenzio. I 31 punti di differenza in classifica tra San Marino e Nerostellati sono ingannevoli. La prestazione offerta dalla squadra di Medri contro il fanalino di coda sintetizza perfettamente. Una crisi senza fine del San Marino sul proprio campo. L'ultima delle tre vittorie al San Marino Stadium risale al 19 novembre 2017 contro l'Are Canatese. Crisi senza fine per una squadra capace di costruire fuori e di distruggere dentro. Metamorfosi spiegabile con una tattica attendista in trasferta dove i titani accettano il palleggio per poi far male con le ripartenze, mentre in casa diventa tutto più complicato quando al contrario è il San Marino che deve costruire gioco e occasioni. Così anche un Nerostellati qualsiasi si dispone in maniera ordinata sul terreno di gioco e senza fare nulla di trascendentale. Sbanca meritatamente il San Marino Stadium. La formazione abruzzese può rammaricarsi per quello che poteva essere e probabilmente non sarà. Vista oggi non ne sembrerebbe certamente una squadra destinata a retrocedere. Primo tempo con poche situazioni da rete. Uno dei più brillanti è Pupinski, al quale basta un po' di dinamismo per mettere in difficoltà una difesa priva del suo baluardo principale. Roberto Di Maio fuori per squalifica, il San Marino risulta statico, farraginoso, inconcludente, inadeguato e con E fa le prove generali nell'occasione buona la chiusura di Mingucci. L'unica circostanza in cui si vede Longobardi è questa, in chiusura di frazione, costruzione dignitosa, conclusione larga. La sensazione all'intervallo è che se qualcuno può sbloccarla non indossa la maglia bianca-azzurra. Ripresa la scossa di Medri nell'intervallo non sortisce effetti e si rientra sempre con il passo lento. Dopo l'ennesimo avviso del pericoloso Pupinski, arriva la folgore che brucia il titano. Iacubucci taglia il campo, con E in velocità controlla e scarica il diagonale del logico. 0 a 1. Il San Marino ha la stessa forza di reazione che potrebbe avere un lanciatore di coriandoli a far male. È sempre l'ultima in classifica, Pupinski ha quasi un conto personale con falle. Il San Marino è evanescente, registriamo solo qualche taglio in mezzo all'area alla ricerca di qualcosa che non arriva. Così nel finale il Nero Stellati si garantisce la gloria momentanea con Ouan Chi, che non se la sente di infierire. Nappello scarica una conclusione che porta solo a sterili proteste per un fallo di mano in barriera, poi la definitiva pugnalata abruzzese con Ouan Chi, essenziale per Bruni, che mette i titoli di coda all'incontro e fa toccare al San Marino. Il punto più basso stagionale, il presidente Luca Mancini perderà la voce per scaricare tutta la sua rabbia negli spogliatoi al San Marino Stadium. Nero Stellati batte San Marino 2 a 0. Buona prova della formazione Peligna, meno buona la prova invece dell'Avezzano, beffato nel finale nel recupero di Castelfidardo. Rigore dubbio, nega la vittoria, Biancoverdi in vantaggio nella ripresa grazie a Dosanto. Sarà giunti al novantesimo dal Castelfidardo con un penalty contestato. Allora possiamo andare a vedere le immagini della gara giocata in terra marchigiana. L'Avezzano si illude e poi ritorna sulla terra quando il più sembrava fatto. Al Mancini di Castelfidardo nel recupero finisce 1-1, una gara che i Marsi Cani avevano portato praticamente a casa prima del rigore finale realizzato da Montagnoli. Squadra di Giampaolo non sfonda nelle marche, ma si conferma comunque prima forza abruzzese del campionato di Serie D. Marsi Cani senza Deramo impegnato con la rappresentativa al torneo di Viareggio e sostituito da Pollino sulla corsia di sinistra. Torna Cerone alle spalle di Dosantos, mentre in mezzo al campo la diga è formata da Persi e Bianciardi. In difesa gioca Scutti e non Lombardo a sinistra. Marchigiani con 3-5-2, coppia d'attacco formata da Calabrese e Pedalino e Mediana a Folta comandata da Giovagnoli. Al settimo il primo squillo marsicano con il traversone basso di Besana che Cerone impatta ma non riesce a indelezzare in maniera precisa. L'Avezzano prova a fare la partita e quando può costruisce buone trame come al quarto d'ora, azione costruita sull'asse di destra e con l'avvio e il tentativo di chiusura di Persi aiutato da Pellecchi e Besana. Occasione d'oro per gli ospiti al diciannovesimo con Dosantos che serve l'insiedimento nel corridoio di Pollino. Conclusione troppo debole centrale del numero 7, Paraselvaggio, coi piedi. La risposta a Fidardense col piazzato di Calabrese al ventitresimo che però non fa male a Fanti. Partita brutta almeno nella prima frazione, Dosantos assistito poco o nulla e allora il brasiliano decide alla mezz'ora di provare la conclusione impossibile che termina abbondantemente alta sopra la traversa. I marchigiani si vedono a 10 dall'intervallo, punizione di Terrenzio, sponda di Pedalino, spara Calabrese ma il destro è troppo centrale. Reazione immediata della Verzano al trasponda stavolta di Dosantos e Pollino un'occasione simile a quella del diciannovesimo ma anche questa volta la conclusione non crea pericoli a Selvaggio. Al 42esimo è Cerone a sfiorare il gol del vantaggio con un sinistro magico che sembra indirizzato sotto l'incrocio dei pali ma è super Selvaggio a metterci la mano destra forse anche con l'aiuto della traversa e a tenerla lì prima dell'arrivo di Pollino. Nel primo minuto di recupero Mantini all'interno dell'area di rigore Marsicana si distende e prova il servizio sul secondo palo a Pedalino ma Besana fa buona guardia. Magnoni lascia Massi negli spogliatoi e inserisce Montagnoli ma soprattutto torna alla difesa a quattro con Terrenzio che si allarga a destra e Giovagnoli in mezzo a far coppia con l'ISPI. La prima emozione della ripresa è targata a Pellecchia fino a quel momento in ombra. Al 52esimo si porta il pallone sul sinistro e chiama Selvaggio quasi ingannato dalla traiettoria alla respinta con i pugni. La partita si accende menna stop al 55esimo la conclusione di Calabrese è liberato dalla sponda di Montagnoli. Cambio di fronte e Dos Santos si lancia verso Selvaggio ma calibra male la staffilata Mancina troppo alta. Ancora Montagnoli al minuto 57 destro Arquato che prova a sorprendere Fanti ma senza fortuna al 63esimo ancora Cerone è ancora su punizione. Stavolta la traiettoria è bassa e Selvaggio ancora lì a respingere così come la difesa marchigiana sul tentativo di tappin di Pellecchia da posizione definata. Giampaolo allora ridisegna la squadra a sinistra fuori Scutti e Pollino dentro Lombardo e Acatullo per un Avezzano a trazione ancora più anteriore. Il doppio cambio porta quanto meno fortuna perché nemmeno 60 secondi e l'Avezzano passa. Solita punizione di Cerone smorzata dalla difesa di casa ma la sfera passa e Dos Santos si avventa sul pallone e batte Selvaggio per il vantaggio ospite. Terzo cambio per Giampaolo fuori proprio Cerone dentro Bisegna il più pericoloso nel Castelfidardo rimane sempre Calabrese che al 76esimo chiama la risposta in tuffo Fanti per disinnescare la sventola di destro. Giampaolo si copre fuori Pellecchia e dentro va Crass e poi di Curzio per Bianciardi ma è persi a provare la solita sortita offensiva al minuto 82 con il destro alto. La doccia gelata però arriva al novantesimo la punizione di Calabrese vede di come di consueto il grande mucchio in area di rigore ma stavolta per Taricone Lombardo commette fallo su Giovagnoli giallo per l'Avezzanese e dal dischetto il numero 17 batte Fante regala il pareggio alla squadra di casa delusione tremenda per l'Avezzano atteso domenica prossima dal derby del Dei Marsi contro il Francavilla. Delusione dunque per i marsicani per questo pareggio del Castelfidardo arrivato sul rigore dubbio proprio negli ultimi istanti di gara e andiamo ad ascoltare invece al novantunesimo cosa ha detto il presidente il patron della formazione marsicana Paris Presidente Paris c'è davvero tanta amarezza perché era una vittoria che sembrava oramai ad un passo poi quel calcio di rigore il finale concitato qualche screzio al novantacinquesimo con l'allenatore ospite insomma un finale da dimenticare abbiamo giocato 90 minuti solo noi quindi credo che anche il pubblico di casa lo riconoscerà il problema è che nel calcio se fai solo un gol rischi che poi nell'abolgia della cosiddetta zona Cesarini come oggi era già il tempo supplementare i cinque minuti che aveva concesso il laterna prendi un gol su un rigore che sinceramente non ho visto non ho capito era coperto l'arbitro e non posso proprio capire come possa aver concesso il calcio dagli 11 metri poi ho visto soltanto l'avezzano calcio questa cosa mi conforta in ottica playoff noi dobbiamo in tutti i modi difendere il terzo posto e quindi dobbiamo provare in maniera assoluta a fare più punti possibili oggi l'abbiamo consolidato speravamo più tre sulla quarta sarà più uno ma al di là di tutto insomma sono convinto che questa è una squadra che fa la differenza nel 2018 abbiamo fatto soltanto vittorie e pareggi quindi è una squadra che al nono risultato utile consecutivo credo che stia confermando quello che ha fatto all'andata rispetto all'andata stiamo facendo meno punti ora però quando giochi con squadre che devono salvarsi con altre situazioni dal punto di vista caratteriale emotivo eccetera può essere normale una conseguenza che il calcio ti regala nel bene e nel male dalla serie A alla terza categoria e quindi accettiamo questa cosa perché l'amarezza che ho dentro è talmente tanta che se vedessi che cosa ho dentro non ci sarebbero parole Presidente vi faccio una domanda con l'assenza di Deramo di fatto l'Avezano poteva anche chiedere il rinvio di questa partita perché ha scelto poi di giocare? perché non siamo d'accordo a posticipare troppe partite tra fine marzo e un mese di aprile è importante dove ci giochiamo tutto adesso abbiamo fra sette giorni il derby con il Francavilla e lì dobbiamo provare a mettere una marcia in più per disputare una grande prestazione la squadra c'è l'ha dimostrato quindi i ragazzi sono stati bravi non sono stati bravi in fase realizzativa purtroppo nel calcio vince chi fa più golle e oggi non siamo stati bravi soltanto negli ultimi 16 metri parliamo ancora di Serie D parliamo dell'Aquila il futuro resta un'incognita niente bilancio né soldi per la gestione corrente Miani lascia questo l'interrogativo in casa Rosso Blu con una crisi societaria sicuramente di difficile soluzione a vasto si parla di playoff obiettivo alla portata dei biancorossi anche di una società più forte il presidente Bolami dice allarghiamo la base e il Pineto prepara quattro partite in 12 giorni domenica ci sarà il derby vedete in basso il titolo con l'articolo Pineto prepara quattro partite in 12 giorni e domenica ci sarà come vi dicevo il derby proprio con il Nero Stellati passato al San Marino Stadium ieri nel recupero della gara che era stata rinviata per Neve siamo alla pagina relativa al campionato regionale di eccellenza con il Giulianova capolista distratto resta però Real la squadra giallorossa bloccata sul 2-2 casalingo dal San Salvo che acciuffa il pareggio sul rigore al novantesimo il vantaggio della capolista resta però di 11 punti e dunque sicuramente rassicurante e poi il patron Bartolini si scaglia contro il direttore di gara vediamo anche le altre partite della giornata di ieri con la vittoria esterna del Martinsicuro a Montesilvano sul campo dell'Acqua e Sapone per 2-1 il successo rotondo dello spoltore ad Alba Triatica per 4-1 la vittoria della Torrese per 3-2 sul Miglianico e il Chieti incredibile prende due gol nei tre minuti di recupero 2-2 a Cupello tra i padroni di casa i Neroverdi Neroverdi in vantaggio con l'ex Selvallega e Catalli agganciati al secondo posto ora dal Martinsicuro vince invece l'altra formazione teatina il River Chieti che batte l'angolana per 1-0 3-3 pareggio a suon di gol tra San Buceto e Penne pareggio per 1-1 tra Paterno e Amiternina nell'anticipo di sabato vittoria del Capistrello per 3-0 sul campo del Montorio al Vomano e siamo al campionato regionale di promozione il Girone A Notaresco Virtus Teramo 1-2 Ponte Vomano Celano Marsica 3-0 Luco Alba Montaurei 1-0 Nuova Santigidiese San Gregorio 2-2 Piano della Lente Colonia 1-3 Fontanelle Santomero Palmenze 3-0 Tossicia Morodoro 0-0 Rosetana Mosciano 3-0 Mutignano Pucetta 2-0 e vediamo quello che è accaduto nel Girone B Delfino Sporting Celano 3-3 gara giocata a Celano con il Delfino che pareggia in rimonta dopo mezz'ora era sotto la formazione pescarese pensate di tre reti Fater Casalbordino 1-3 Castiglione Valfino Ortona 1-1 Passo Cordone Palombaro 3-0 Fossacesi Ariano 1-0 Casolana Real Treciminiere 1-0 Bucchianico Val di Sangro 4-0 Sulmona Villa 2015 1-0 Piazzano Virtus Pratola 1-1 Vediamo anche le classifiche di questa giornata vediamo se riusciamo a visualizzare la pagina relativa ai numeri eccola qui dei campionati dilettantistici regionali ma dando uno sguardo anche alla classifica di serie D perché con il pareggio di ieri vedete Lavezzano si mantiene in alta quota in classifica per quanto riguarda invece l'eccellenza il Real Giulianova è sempre al comando 11 punti di vantaggio su Chieti e Martinsicuro nel campionato di promozione girone A Virtus Teramo 53 Pontevomano 63 scusate Pontevomano 61 e poi nel girone B Delfino Pescara al comando al secondo posto c'è il Casalbordino poi Ortona e Val di Sangro siamo dopo aver parlato ampiamente di calcio alla pagina che riguarda il rugby l'Aquila terzo capo di fila l'eccellenza si allontana l'Aquila battuta in casa dal Cavalieri Prato ieri con il risultato di 27 a 25 prossima gara in trasferta con l'Accademia e intanto per il Gran Sasso Aquila l'altra formazione aquilana capone nazionale under 18 domenica c'è la gara con Torino e a proposito di rugby l'Italia rischia il cucchiaio di legno alle 6 nazioni a Cardiff disfatta con Galles che vince per 38 a 14 storica vittoria invece per le donne rugby di serie B al Paganica il derby con Avezzano dopo 80 minuti molto equilibrati dal rugby alla pallavolo maschile alla serie A2 con il passo fondamentale verso la salvezza della SIECO che ha battuto l'Alessano e decisivo sarà il recupero di mercoledì ad Aversa Ottaviani dice vogliamo il secondo posto e poi in basso si parla invece del campionato dei campionati cadetti l'Altino vince in segue la capolista in serie B la Coged torna sconfitta dal parquet dell'Oria Gada Pescara battuta in casa da Osimo proseguiamo e siamo al basket ancora secondi finali amari per Roseto che si arrende a Trieste per al Trieste per 91 ad 87 gara giocata al Pala Maggetti una sconfitta bruciante per i rosetani che sono stati in partita contro la capolista Alma Trieste fino alla fine e dunque è davvero una sconfitta bruciante ma forse anche immeritata orgoglioso dei miei ragazzi dice il coach di Paolo Antonio l'allenatore elogia la squadra abbiamo giocato fino all'ultimo ci resta la grande prova ma non i punti che servivano davvero tanto per la nemica classifica dei rosetani siamo al campionato di basket di serie B nell'anticipo vedete in alto c'era stata la vittoria di di Pescara dell'amatore di Pescara sul parchè del Cerignola vediamo cosa è successo ieri nelle altre gare degli abruzzesi con la Globo Campli che cade con il Senigallia terza sconfitta al Pala Borgognoni 75 a 66 per la formazione marchigiana e Terramo crolla nel finale sul campo del Fabriano che si aggiudica la gara per 79 a 71 per quanto riguarda invece il Giulianova sciupa tutto nell'ultimo quarto la formazione Giuliese e si arrende a Matera la squadra Lucana si impone per 70 a 60 e poi la sconfitta di Ortona sul campo della supercapolista Sansevero che batte gli ortonesi per 86 a 64 dunque un turno non proprio felicissimo per le nostre formazioni in serie C Silver Chieti e Spugna Campli basto all'inseguimento dei teatini siamo al podismo il ventenne Mancini svetta nella corsa della memoria gara podistica organizzata dalla Vini Fantini dalla Wisp a Bruzzo e Molise che si è disputata ieri a Torre dei Passeri l'atleta di San Vito Chietino si aggiudica la gara competitiva la teatina Sara Di Prinzio prima donna al traguardo in volata davanti al Aceto tra l'altro vi anticipo che potrete vedere scusate nei prossimi giorni sulla nostra rete uno speciale di un'ora proprio sulla corsa della memoria che si è disputata ieri a Torre dei Passeri con il podismo siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 la nostra consueta segna stampa che tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio Silvia Gentile in regia ringrazio voi per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento per le 14 con la prima edizione del nostro telegiornale buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti